Ciao ragazzi e benvenuti al video combo di Ignister, penso di avervi già accennato il perché il video è separato in due parti ringrazio innanzitutto Tema per avermi inviato tutti i replay del caso sono davvero tante combo, me ne rendo conto anch'io ma vanno a coprire praticamente ogni possibile start e penso che saranno utilissime per chi ha seriamente intenzione di giocare il mazzo detto questo quindi vi lascio alle combo, vi saluto e vi rimando ai prossimi video ciao ragazzi ciao 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 ciao